Natalina? Paralela! Buongiorno Dottore. Signora Natalina, prego, mi dica pure. Dottore, sono un po' di giorni che sento un senso di vuoto. Mi attaglia proprio l'esistenza. E' un po' una sorta di repulsione nei confronti delle peste. Pensi che quest'anno non hanno nemmeno quelli di fare i ravioli. Non si preoccupi signora, il suo è un sintomo molto comune. Soprattutto in questo periodo dell'anno. Io però ho la soluzione anche qua per lei. Adobolo Forte è un presidio medico allegorico che può provocare felicità estrema e amore verso il prossimo. Tenere alla portata i bambini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.